Grazie. E' qualcosa di più che è un segna presente perché questo ti abilita in un tappeto digitale dove puoi mettere dei contenuti in qualsiasi spazio della scuola siccome c'è grazie al comune che ci ha dato internet eccetera c'è la rete e uno può accedere ai propri contenuti al proprio diario online lo studente in parallelo al prof che mette presenza senza voti ha il suo diario. Fantastico questo qui questo è meraviglioso grazie un bocca al lupo un bocca al lupo buon lavoro di cuore per quest'anno il luogo è meraviglioso per lavorare dove eravate voi dove era la scuola privata? Per cui si può lavorare tutti insieme separati per piccoli gruppi se uno ha bisogno di lavorare magari su una professione. Questa è la sala di tecnologia? Si ma in realtà oltre la sala abbiamo l'armaggetto che noi vogliamo portare. Ho già memorizzato perché il rischio è grosso. Grazie. 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 Grazie.